Prima quando è arrivato il sindaco di Perugia Andrea Romizzi ci ha fatto un complimento che vi voglio rendere noto, di cui voglio essere partecipi. Guardandosi intorno Andrea ha detto beh qui c'è veramente un popolo, questo è un grande complimento di cui lo ringrazio e di cui dobbiamo essere fieri perché questo è il vero spirito della Lega, il vero spirito di un movimento politico che vuole rappresentare l'Umbria, tutti gli Umbri in tutte le loro declinazioni da città di Castello fino ad arrivare a Terni in tutte le proprie caratteristiche ed è bello essere qui e ringrazio quindi Andrea Romizzi che invito per un saluto, ringrazio anche il sindaco di Monteleone d'Orvieto che è tra noi questa sera e il sindaco di Passignano sul Tragimeno, oltre naturalmente al consigliere regionale Claudio Ricci a cui diamo un particolare applauso. Ebbene l'esperienza che ci ha vinto, ci ha visto vicino alla vittoria alle regionali è stata un'esperienza proficua, un'esperienza che ci ha reso possibile una grande soddisfazione, quello di avere eletto per la prima volta in Umbria due consiglieri regionali che invito a salire qui sul palco insieme a me, Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini erano in giro prima a servire tra i tavoli e questo è anche lo spirito che ci anima quindi quello di mettersi al servizio. Io non vorrei perdermi i discorsi politici perché non è certamente questa la condizione e vogliamo sentire dopo Matteo Salvini. Vorrei invece presentarvi quella che è la squadra che assieme a noi sta costruendo la Lega in Umbria fatta di persone, fatta di persone concrete che stanno facendo esperienze assieme anche per la prima volta. Qualcuno si conosce da anni, qualcuno ha avuto opportunità di conoscersi durante la campagna elettorale ma soprattutto siamo qua questa sera per essere veramente tutti assieme un grande popolo, quello Umbro. Ecco chiamo e se possono venire raggiungano sul palco noi oppure stiano lì a fare il servizio che stanno facendo ma con un applauso corale. Virginio Caparvi vice segretario della Lega Nord Umbria Luca Brizziarelli responsabile delle aree tematiche della Lega Nord Umbria Sandro Cretoni l'organizzativo ovvero quello a cui fare l'applauso se va bene o quello da prendere per le orecchie se va male. Riccardo Marchetti responsabile dei giovani e inviterei a questo punto veramente il sindaco Romizzi per un saluto a questo nostro popolo Umbro. Io ringrazio Stefano, saluto ovviamente Matteo, come vi raccontava lui davvero l'impressione che ho avuto entrando è che qua vi è un popolo. Provo a alzare, mi sentite dicevo come raccontava prima Stefano davvero l'impressione che ho avuto entrando qui dentro è che qua vi è un popolo, vi è un popolo, una comunità politica prima ancora umana con grandi legami di oramai fratellanza e amicizia e devo dire che questo in politica non è usuale riscontrarlo per cui avete la mia ammirazione, sono qua perché è un popolo che sento molto vicino a me, ovviamente stiamo facendo un cammino assieme, noi abbiamo anche la fortuna di avere un consigliere comunale che è Michelangelo Felicioni in consiglio comunale a Perugia che davvero è una grande risorsa e devo dire si è sempre messo al servizio anche di un progetto che è un progetto che rimane in questa terra rivoluzionario e che ha bisogno per poter andare avanti dell'affetto, del sostegno, della determinazione di ognuno di voi per cui io sono qua anche a chiedervi questo e a salutare tutta la squadra che è una grande squadra con persone come Luca con le quali sono cresciuto e di cui ho un grande affetto e mi legano tanti ricordi, per cui in bocca al lupo a tutti voi, andate avanti, spero che andremo avanti, Terni ovviamente, ovviamente avete anche due grandi consigli regionali che sono Valerio e Emanuele ai quali faccio un in bocca al lupo insieme a Claudio, ecco la squadra c'è oramai, per cui andiamo avanti, alle regionali abbiamo per un soffio toccato il cielo ma quella è solo rinviato, bravo Stefano, hai conto il mio pensiero per cui andiamo avanti con anche Matteo che ripeto saluto e al quale do il benvenuto nella nostra terra e tutti quanti assieme. Un nuovo ringraziamento ad Andrea Romizzi, saremo con te e compieremo questa grande impresa di rendere possibile di toccare il dito con un cielo anche in Umbria. Grazie. Vi presento ora la squadra che sta costruendo la Lega sul territorio, per tutti loro un grande in bocca al lupo e una sfida da vincere assieme, quello di dare agli Umbri una vera casa in cui riconoscersi, perché questa è la Lega, una grande casa nella quale tutti debbano riconoscersi e che a tutti vuole dare la dignità di sentirsi cittadini in Umbria, non sudditi, sotto un'amministrazione regionale e un governo che ci vuole solo schiacciare. Cominciando da Perugia, responsabile Alessandro Tassi, di Terni Federico Cini, città di Castello Nico Mazzoni, di Assisi Stefano Pastorelli, e qui c'è la clacca. Però quelli di Foligno non si sentono abbastanza. Eccoli qua, quelli di Riccardo Polli, Todi Marciano, Patrizia Sargeni, Guanile Trasimeno, Luca Brizarelli, Spoleto, Michele D'Angeli, Valnerina, Federico Brandimarte, Valnerina, dove era Valnerina? Sono un po' scuretti, eh? Gubbio Gualdo Tadino, Alessia Raponi, Orvieto, Gianni Mocetti, Narnia Melia, Luca Seppe, Di Umberti, De Lorenzo Baratella, Augusto Rossi, De Ruta, Guido Centanni, di Castiglion del Lago, Roberto Ceccomoro, per Città della Pieve, Goffredo Pucci, Collazzone, Francesca Rosati, di Gubbio, Luana Sensini, Massa Martana, Umberto Tessitore, di Valfabbrica. E Nando Piazzoli, di Marsciano. Assieme a loro stiamo costruendo una vera alternativa per l'Umbria. E ringraziamo anche per il lavoro che stanno facendo i nostri consiglieri comunali. Luigi Tardioli, ad Assisi, Virginio Caparvia, Nocera Umbra, Sandro Cretoni, a Spoleto, Luca Brizarelli, a Passignano e Corrado Belloni, a San Giustino. Questa è la nostra grande famiglia. Tutti assieme daremo una svolta all'Umbria. Un forte applauso e un ringraziamento. Avremo modo ancora di fare i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile questa prima festa della Lega Regionale dell'Umbria. Ma innanzitutto vi prego di anticipare un applauso speciale a David Bonifazi e a tutti gli amici di Pianello. Sono venuti a trovarci anche gli amici di Viterbo. Il consigliere comunale Felicioni già salutato prima dal sindaco Rovizi e lo terremo qua in ostaggio. Un consigliere comunale, consigliere regionale della regione toscana. Perché se qualcuno pensa che l'Umbria possa essere sciolta nella Toscana perché Renzi vuole fare anche qua al despota si sbaglia di grosso. E questo diglielo quando andrai in consiglio regionale. Che gli Umbri sono Umbri e l'Umbria è degli Umbri. Buon appetito, buona continuazione e a fra poco con Matteo Salvini. Grazie.